il vecchio dagio non c'è due senza tre questa volta non si è avverato e così i balestrieri di san sepolcro hanno lasciato agli amici balestrieri di lucca il trofeo il mago dei edizione 2024 le due città infatti sono depositarie della stessa icona sebbene realizzata in due esemplari diversi che però rendono famosi in tutto il mondo i due centri toscani il volto santo proprio per solennizzare il fatto nel 2021 il presidente della società balestrieri di san sepolcro stefano tarducci fece la proposta al vice gonfaloniere della compagnia balestrieri di lucca giuseppe dal progetto che accolse immediatamente l'idea ma ascoltiamo il presidente tarducci in una dichiarazione fatta a margine della conferenza stampa lo scorso 3 maggio sono veramente soddisfatto che questa nostra idea nata due anni fa sia si sia consolidata e siamo già la terza edizione che il 12 maggio ci vedrà confrontarci ma con gli amici lucchese io direi che questo è un momento di convivialità forte che riunisce le due città ma soprattutto le riunisce nel nome di due icone fondamentali importantissime per il mondo cristiano che sono i due volti santi sempre a questo proposito il vice gonfaloniere della compagnia balestrieri di lucca giuseppe dal poggetto anche lui in una dichiarazione fatta a margine della conferenza stampa lo scorso 3 maggio ha dichiarato quanto segue sono sempre stato un fautore di rilacciare buoni rapporti con sia cansepolcro che gubio per quello che era successo e quando stefano mi fece questa proposta eravamo una gara massa marittima non mi sono fatto ripetere due volte la cosa sono andato da monsignor paolo giulietti nostro vescovo e nel quale avevo riscontrato un grande entusiasmo e mi sono messo sotto a lavorare per organizzare la prima edizione e poi anche per sviluppare rapporti per le edizioni successive quindi stefano traducci ha avuto dato della situazione e io non mi sono fatto ripetere la cosa e poi l'amministrazione comunale di lucca il secondo anno ha abbracciato anche essa la manifestazione e vuole sviluppare rapporti con la città di sansepolcro e questo insomma fa ben sperare per il futuro così dall'anno successivo alla proposta come hanno appena ricordato tarducci e dal poggetto iniziò lo svolgersi di questa manifestazione il regolamento stabilisce che la gara abbia come sede alternandosi una delle due città sempre lo stesso però prevede che la presentazione della manifestazione avvenga nella città dove non si disputerà il trofeo le prime due edizioni hanno visto prevalere i balestrieri di sansepolcro e quest'anno la maggior gloria è andata ai balestrieri di lucca la gara si svolge secondo la modalità con la quale si balestra il palio dei rioni e a sansepolcro ci sono in tutto 11 tiratori per parte che gareggiano uno contro uno chi arriva prima a sei risulta il vincitore del trofeo messo in palio trofeo che rimane alla città e alla compagnia balestrieri che se lo sono aggiudicato per un anno fino alla gara successiva quando sarà rimesso in palio nella seconda domenica di maggio a proposito del trofeo come si vede dall'immagine c'è da dire che è stato realizzato dal balestriere di sansepolcro Claudio Boncompagni che è in argento e che riporta il solo volto del volto santo custodito all'interno del duomo di sansepolcro sempre durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi a sansepolcro lo scorso 3 maggio nella sala del consiglio comunale è stato presentato il cero che nel giorno della gara è stato donato da sansepolcro a lucca all'immagine del loro volto santo si tratta di un cero realizzato da donatella zanchi l'offerta è stata fatta nella cattedrale di san martino all'inizio della celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo monsignor paolo giulietti ma ascoltiamo proprio dall'audrice il significato simbolico del cero le celebrazioni dei balestrieri a volte sono proprio anche di carattere religioso tipo l'offerta della scera o appunto questa sfida dedicata al volto santo ma siccome nel medioevo la devozione verso il volto santo era manifestata attraverso la donazione di un cero acceso ecco è simbolica questa cosa della dipintura di un cero devozionale proprio che io ho chiamato il cero dell'amicizia il cero dell'amicizia fra le nostre due città che hanno per l'appunto tutte e due le croci enorme nel volto del Cristo tunicato più antiche della cristianità ecco ci unisce anche questo spirito religioso questo filo conduttore non solo attraverso la balestra ma anche attraverso la religione il cero come si vede dalle due immagini ha sempre come disegno primario il volto santo mentre di anno in anno la cosa che cambia è il decoro dei fregi con fogliami che quest'anno hanno un colore rosato oltre a questo non possono mancare lo stemma del comune di Sansepolcro e quello della società balestrieri di Sansepolcro la gara si è svolta al campo di tiro che si trova nello spettacolare scenario degli spalti delle mura di Lucca lì dove pochi giorni prima, l'8 maggio era stato posto il traguardo della quinta tappa del Giro d'Italia Genova-Lucca con sullo sfondo le suggestive e storiche mura simbolo della città che cento anni fa dette in Natalia Giacomo Puccini ma che annovera fra i suoi personaggi illustri anche la mistica Santa Gemma Galgani che pur nata a Capannori è vissuta e morta a Lucca e San Davino il confessore armeno di origine ma che morì a Lucca e riposa nella cattedrale di San Michele l'appuntamento è dunque per il 2025 allora la conferenza stampa si svolgerà a Lucca mentre la gara sarà ospitata a San Sepolcro che come è stato già detto perché è previsto dal regolamento la seconda domenica di maggio appunto domenica 11 maggio 2025 i prossimi impegni della società valestrieri di San Sepolcro sono in calendario domenica 26 maggio quando sarà di nuovo Palio in piazza Grande a Gubbio mentre sabato 18 giugno si disputerà la gara di apertura valevole per l'assegnazione del titolo di campione cittadino 2024